L'Italia, sfide e prospettive in un contesto globale L'Italia, una delle nazioni più affascinanti e culturalmente ricche del mondo, affronta attualmente una serie di sfide che hanno suscitato preoccupazione riguardo al suo futuro. Nonostante il patrimonio culturale, l'arte e la cucina che attirano milioni di visitatori ogni anno, il paese sta affrontando una serie di problemi socio-economici che hanno portato alcune persone a esprimere timori sul suo status e la sua posizione nel contesto internazionale. In questo articolo, esploreremo alcune delle sfide che l'Italia sta affrontando e analizzeremo le prospettive per il futuro. Crisi economica e debito pubblico Una delle principali preoccupazioni per l'Italia riguarda la sua economia. La nazione ha affrontato diverse crisi economiche nel corso degli anni, e la più recente crisi finanziaria globale ha lasciato una profonda impressione sull'economia italiana. L'Italia ha uno dei debiti pubblici più elevati dell'Unione Europea, il che pone il paese in una posizione di vulnerabilità finanziaria. Il debito pubblico elevato impone un onere significativo sulla spesa pubblica, limitando le risorse disponibili per investimenti nei settori chiave dell'economia, come l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo e l'infrastruttura. Disoccupazione e mercato del lavoro Un altro aspetto preoccupante riguarda il tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani. La mancanza di opportunità lavorative adeguate ha portato molti giovani altamente qualificati a emigrare in cerca di migliori prospettive all'estero, privando così il paese di talenti cruciali. La scarsa crescita economica e la rigidità del mercato del lavoro hanno anche contribuito a un alto tasso di disoccupazione, con un divario significativo tra il nord e il sud del paese. Sistema politico instabile Negli ultimi anni, l'Italia ha affrontato un periodo di instabilità politica con frequenti cambi di governo. Le divisioni politiche, la frammentazione dei partiti e la difficoltà nel formare coalizioni stabili hanno creato un clima di incertezza politica, che ha spesso ostacolato il processo decisionale e la capacità del paese di affrontare le sfide interne ed esterne. Immigrazione e integrazione sociale L'Italia è uno dei principali punti di ingresso per i migranti che cercano una vita migliore in Europa. Mentre molti italiani hanno dimostrato un forte spirito di solidarietà e accoglienza, l'afflusso di migranti ha creato tensioni sociali e politiche. La questione dell'immigrazione ha alimentato il dibattito pubblico e politico sulla sicurezza delle frontiere, l'integrazione sociale e le politiche di asilo. Declino demografico Un'altra sfida significativa riguarda il declino demografico dell'Italia. Il tasso di natalità è in diminuzione, e l'invecchiamento della popolazione è un problema crescente. Questo crea una pressione sui sistemi di assistenza sociale e sanitaria e solleva interrogativi sulla sostenibilità dei regimi pensionistici nel lungo termine. Prospettive per il futuro Nonostante queste sfide, l'Italia possiede anche una serie di punti di forza che potrebbero essere sfruttati per affrontare i problemi attuali e costruire un futuro più prospero. Alcuni dei punti di forza dell'Italia includono 1. Patrimonio culturale e turismo L'Italia è rinomata per la sua ricca storia, l'arte e il patrimonio culturale, che continuano ad attirare visitatori da tutto il mondo. Lo sviluppo sostenibile del settore turistico potrebbe contribuire a generare reddito e occupazione. 2. Innovazione e tecnologia L'Italia ha una lunga tradizione di innovazione e creatività in diversi settori, tra cui il design, la moda e la tecnologia. Investimenti in ricerca e sviluppo potrebbero stimolare l'innovazione e favorire la crescita economica. 3. Agricoltura e cucina L'agricoltura italiana è rinomata per la qualità dei suoi prodotti, e la cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo. Promuovere e valorizzare i prodotti locali potrebbe aiutare a stimolare l'occupazione e le esportazioni. 4. Energia rinnovabile L'Italia ha il potenziale per sviluppare ulteriormente fonti di energia rinnovabile, come l'energia solare e l'eolica, riducendo così la dipendenza dai combustibili fossili e mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici. Conclusione L'Italia sta affrontando una serie di sfide complesse che richiedono un approccio olistico e un impegno comune da parte di tutti gli attori della società. Attraverso una governance stabile, politiche economiche sagge e investimenti mirati, il Paese potrebbe superare le difficoltà attuali e aprirsi a un futuro più prospero e sostenibile. La preservazione della propria identità culturale e storica, unita all'apertura verso l'innovazione e la cooperazione internazionale, potrebbe aiutare l'Italia a rafforzarsi e a mantenere un ruolo significativo nel contesto globale. Solo attraverso uno sforzo collettivo e un dialogo aperto, l'Italia potrà affrontare le sfide odierne e plasmare il proprio destino nei prossimi anni.